Festival di Cancelletto Sanremo 2023 Terza serata del 9 febbraio 2023 La scaletta, gli ospiti, e le immagini della serata È tempo della terza serata del 73esimo festival della canzone italiana Sanremo 2023, in onda questa sera dalle 20.50 circa su Rai 1, e Rai Radio 2. Questa sera si esibiranno 14 dei 28 campioni in gara in questa nuova edizione del concorso musicale più famoso d'Italia, scelti dal direttore artistico Amadeus e dalla commissione artistica composta da Leonardo De Amicis, Federica Lentini e Massimo Martelli. Festival di, l'articolo Festival di Cancelletto Sanremo 2023 Terza serata del 9 febbraio 2023 La scaletta, gli ospiti, e le immagini della serata Proviene da 123 Dov'è tre Grazie a tutti.